E' un bambino italiano su tre, sovrappeso, l'obesità infantile è un problema crescente. Per imparare a pensare a cosa mangiamo c'è Food for You, gli spot dei giovani filmmaker europei. A Roma c'è stata la finale, ragazzi il clima era come alla notte degli Oscar. Vince il Food for You Award 2010, il trofeo del Presidente della Repubblica Italiana. 6 milioni di studenti, più di 30.000 scuole, 16 paesi in gara è Food for You, il video festival sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana che premia i migliori spot per un'alimentazione sana e consapevole. Dietro e davanti alla videocamera i teenager europei hanno trovato il linguaggio giusto per dire quando mangi non spegnere il cervello. La Norvegia conquista questa edizione 2010, tra i premiati anche a uno spot italiano. La festa comunque è per tutti. Food for You ha fatto centro pensare a quello che si mangia, proprio l'obiettivo che voleva raggiungere il Ministero per le Politiche Agricole che promuove la manifestazione, o sarebbe meglio dire, la festa. È sempre così l'atmosfera? Ecco, è esattamente così, soprattutto la sera. Cibo spazzatura? Io? Poco, questo è indubbio, poco, perché ogni tanto il paninone o il paninassio, come si suol dire, o le patatine fritte sì, però che sia un'eccezione, cioè una dieta variegata, questa è la cosa più importante, credo che sia il messaggio fondamentale. Mangiare bene è tutta un'altra musica. e anche lo sport fa bene.